Vedremo ora Goran Bregovic con la sua band e le voci femminili nei coloratissimi costumi gitani. Ascolteremo due brani di Sapore Popolare. Il primo, ed Erlesi, si canta nella festa di San Giorgio, santo protettore dei gitani, e dice più o meno così. Il giorno di San Giorgio tutte le famiglie hanno in tavolo un agnello. Solo noi non abbiamo un agnello sulla nostra tavola, perché siamo poveri. Noi siamo poveri anche il giorno della festa di San Giorgio. Il giorno di San Giorgio 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.